Ben ritrovati quest'oggi ospite di Spazio Città e l'onorevole Giuseppe D'Ambrosio che è parlamentare del Movimento 5 Stelle, Andriese, rappresentante quindi del nostro territorio è stato nostro ospite credo prima delle feste di Natale e questo oggi torna a trovarci perché nel frattempo sono accadute tante cose sia nel suo movimento sia nella città di Andria sia sul territorio e quindi lo abbiamo rinvitato per fare il punto della situazione. Ben tornato. Grazie a tutti per l'invito. Onorevole. Allora, qui non va bene, non funziona niente. Partiamo da quella che è l'attività parlamentare, la solita domanda che si fa il cittadino, ma che cosa sta a fare D'Ambrosio, che cosa sta a fare Fucci, ma che cosa sta facendo Perrone in Parlamento? Che cosa stai facendo in Parlamento? Ci muoviamo, nel senso che in questo momento il Movimento 5 Stelle, e quindi non soltanto il sottoscritto, sta cercando di fare quello che da tanti anni oramai non si vede, cioè l'opposizione. L'opposizione prima al governo Letta, adesso abbiamo questo nuovo governo Renzi che è arrivato con tutte le ambasce possibili e immaginabili e ci ha presentato immediatamente invece il conto dei fatti, perché diversamente dalle parole io guardo i fatti, e le prime due cose immediatamente fatte sono state una legge elettorale, assolutamente si commenta da sola, probabilmente peggio anche del Porcellum, e due giorni fa abbiamo provato, prima fiducia del governo Renzi, il decreto, primo decreto, missioni, nel quale andiamo di nuovo a spendere oltre 600 milioni di euro per i prossimi sei mesi ancora in Afghanistan, abbiamo da spendere oltre 300 mila euro per 50 veicoli da regalare alla Somalia e addirittura andiamo a rifinanziare con oltre 140 mila euro una missione del 1964 a Cipro. Questo è il nuovo che avanza di Renzi, quindi il Movimento 5 Stelle anche in questo caso, visto comunque la difficoltà nella quale gli italiani si muovono, parliamo di milioni, centinaia di milioni di euro, semplicemente voleva prendere una gommina e cancellare queste missioni che oramai non servono a nulla, logicamente con un ex strategy che in qualche modo passo dopo passo ci consentisse di andare via in maniera razionale da questi scenari che oramai non portano da nessuna parte, e adeginare questi soldi invece agli italiani, visto che indipendentemente dagli 80 euro che si vogliono mettere sulle buste paga degli italiani, ci sono degli italiani che le buste paga nemmeno le hanno e hanno difficoltà addirittura a mettere il piatto sulla tavola. Ma sulle missioni, visto che ha fatto riferimento alle missioni internazionali, voi non reputate utile nessuna di queste missioni, lei ha fatto riferimento a quella del 64 di Cipro, ma voglio dire là, Turchi e Greci ancora se possono scannarsi si scannano? Sì, io credo che più che missioni che oramai si chiamano missioni ma in realtà sono guerre, bisogna lavorare sulla cooperazione e allora lì vai ad esempio a pesare la differenza tra quello che è stato dato per la missione, che in realtà è uno scenario di guerra, e quello che viene dato per la cooperazione e vedi che nel momento in cui vi sono 6 milioni di euro paragonando dati per una missione di pace, virgolette missioni di pace, quando invece sono in realtà scenari di guerra dove c'è un ingaggio militare di fatto, vengono dati un solo milione di euro per la cooperazione. Io credo invece che la cooperazione, che è quella sulla quale realmente va investito, sia un interesse dello Stato che comunque si trova in qualche modo in difficoltà, come ad esempio rappresentavi scenari di grandi difficoltà e sia un interesse anche degli italiani, perché nel momento in cui risolviamo i problemi di questi cittadini a casa loro, difficilmente anche questi cercheranno una via di uscita a casa nostra. Parliamo un attimo della legge elettorale, che diciamo era la grande attualità fino a quando poi non c'è stata la conferenza stampa di Renzi che ha spostato la discussione. in realtà io sento parlare di è stata approvata la legge elettorale, in realtà non è stata approvata niente, cioè è stata votata dalla Camera, deve andare al Senato, se ci saranno delle modifiche al Senato dovrà tornare alla Camera, quindi chi dice è stata approvata fa una mistificazione bene e buona. Primo, secondo, si è approvata mezza legge elettorale, perché vale soltanto per la Camera ed è diciamo mezza legge elettorale sulla fiducia, perché dice facciamo mezza legge, io mi impegno, perché c'è un impegno ad abolire il Senato. Sta di fatto che se si votasse domani si voterebbe con il proporzionale sia la Camera che il Senato, cioè questa è la realtà e la verità dei fatti. No, l'ho voluto rappresentare, perché io ho colto delle contraddizioni nell'azione politica del Movimento 5 Stelle, perché ci sono 350.000 firme, credo, depositate per una proposta all'epoca depositate da Beppe Grillo. Oramai bruciate. Oramai bruciate, però voglio dire, era un'idea, c'era una proposta di legge, anche se quelle firme non servono più perché sono oramai scadute, sono scadute come le provole, in ogni caso quella era una proposta. Poi voi avete presentato delle proposte di legge elettorale nei rami del Parlamento, delle proposte organiche. Dopodiché avete cominciato a fare le votazioni sul web per come deve essere fatta la legge elettorale. Ora non mi sembra siano chiarissime le idee. C'era un'idea di legge elettorale, le firme, poi c'è una proposta organica di legge elettorale, poi c'è una consultazione delle votazioni sul web per fare la legge elettorale. Allora quale delle tre? In realtà invece il percorso è organico, perché quella proposta di legge che tu giustamente ricordi è Parlamento Pulito, parlava dei due mandati, parlava dei condannati via del Parlamento, esatto, è stata comunque introdotta a bacchetto all'interno della proposta di legge che la Commissione Affari Costituzionali, Camera e Senato assieme, ha presentato cinque mesi prima delle famose proposte di Renzi in televisione. E non era buona già quella? Quella proposta di legge è utilizzata come punto di riferimento per il percorso online di consultazione. Noi come facciamo con tutte le leggi? No, scusami. Se la vostra proposta di legge, diciamo, prevede il proporzionale, che senso ha poi andare sul web a dire preferite il proporzionale o il maggioritario? Cioè voi avete già presentato una proposta di legge con un'indicazione precisa. Ha senso? Cioè volevate essere confortati o volevate essere una consultazione o un conforto? No, capisco il conforto e l'abbraccio che i cittadini ti possono dare, però generalmente danno in funzione in questo modo. I cittadini non ci hanno dato una delega in bianco per fare quello che dobbiamo fare. Allora forse è meglio non presentare quella proposta di legge e consultare i cittadini cinque mesi fa. No, semplicemente mantenendoci su quello spettro lì che dicevamo di Parlamento Pulito abbiamo presentato quella proposta di legge anche come salvaguardia per dire noi già una proposta di legge ce l'abbiamo che rispetta quelle 350 mila firme. Però in realtà quelle 350 mila firme sono del 2007, quindi sono passati un po' di anni, quindi riconsultiamo nel frattempo i cittadini che se modificheranno in qualche punto quella nostra proposta di legge già depositata alla Camera e al Senato noi emenderemo. Sinora non è cambiato praticamente nulla nei vari percorsi, nei vari step fatti della proposta di legge elettorale rispetto a quella che abbiamo già consegnato. Ma giusto per la cronaca noi eravamo anche quelli che pur avendo depositato proposte di legge, gli unici, alla Camera e al Senato per un passaggio rispetto al Porcellum, noi siamo stati anche quelli che quando è uscita la sentenza della consulta relativamente all'incostituzionalità del Porcellum abbiamo detto ok immediatamente torniamo all'ultima legge costituzionalmente legittima che era il Mattarellum modificato e andiamo alle elezioni. Eravamo anche disposti a questo indipendentemente dalla consultazione dei cittadini, proprio per dare un Parlamento legittimo ai cittadini, ma piuttosto che andare alle elezioni si fa questo Porcellum, in realtà è un super Porcellum che noi abbiamo definito una legge elettorale flipper in qualche modo, se vuoi ti posso spiegare anche perché, determinando questa legge elettorale che alla fine in realtà è solo una marchetta, è una marchetta per dire io in due mesi ho portato la legge elettorale in Parlamento nei modi più allucinanti possibili con un accordo tra due condannati fatti all'interno del Nazareno bypassando completamente il Parlamento e meno male che i radiocomandati sono i deputati del Movimento 5 Stelle, visto che invece la legge elettorale quando è arrivata in affari costituzionali, commissione nella quale io mi trovo, il PD ha presentato oltre 230 emendamenti che in una notte sono stati ritirati dopo una telefonata del segretario e quindi i radiocomandati poi saremmo noi. Allora, la realtà dei fatti qual è? Questa legge elettorale semplicemente è una marchetta da parte di Renzi, è un accordo tra Renzi e Berlusconi e Verdini, quindi 2-3 futuri condannati perché comunque Verdini sappiamo anche i problemi che ha con la giustizia ed è un modo semplicemente per tirare a campare perché in questo momento loro andare alle elezioni non vogliono, hanno paura, anche colui che si sarebbe misurato sempre con le elezioni che è Renzi, ha avuto paura di andare alle elezioni. Siccome si avvicinano le... ma dimmi una cosa, adesso spegniamo la telecamera, la tua prospettiva di parlamentare diciamo scadeva tra un anno, perché nel 2005, adesso che Renzi ha deciso che si arriva al 2018, una bottiglia di... l'hai stappata pure tu? Sì, l'ho stappata perché fino al 2018 se lui ci resta lì avremo modo di divertirci con Renzi, semplicemente per quello, perché se abbiamo già cominciato in questo modo, sparando tutta una serie di marchette in powerpoint, ci mancavano, le marchette in powerpoint non le avevamo ancora viste, eravamo abituati a Berlusconi che in 20 anni ci firmava i contratti con gli italiani davanti a Bruno Vespa, questo qui invece è andato oltre, quindi da questo punto di vista abbiamo cominciato bene, in realtà io quello che mi chiedo adesso seriamente parlando tra di noi, ti rivolgo invece io a una domanda, e in questo modo gli italiani ci arrivano al 2018? E in questo modo gli italiani continueranno a fare manifestazioni davanti a Montecitorio in cui addirittura devono dividersi gli orari? Quando cominceremo realmente a parlare ripeto di coloro che non stipendio nemmeno ce l'hanno? Altro che 80 euro che in realtà è il voto di scambio, semplicemente per comprarsi il voto alle europee, visto che si dice li troverete gli 80 euro il 27 maggio, il 27 maggio, il 25 maggio ci sono le elezioni, quello è il voto di scambio, e allora io invece una cosa voglio dire magari ai cittadini... No, naturalmente il voto si paga due giorni dopo le elezioni... Eh sì, chiaramente, però allora dico una cosa ai cittadini, noi ci vogliamo fidare di Renzi, il 27 maggio darà questi 80 euro, però magari il 25 maggio le elezioni votino intanto il Movimento 5 Stelle, poi il 27 maggio se Renzi ci dà veramente questi 80 euro, cominceremo a pensarci per le prossime elezioni. A proposito di elezioni europee, come farete le liste? Ma noi ci stiamo ancora lavorando chiaramente sulla questione delle liste europee, siamo arrivati oramai quasi al traguardo, il problema vero è che il Movimento 5 Stelle adesso viene visto come il carro che in qualche modo... Beh vabbè, però qui ci sono le preferenze, quindi diciamo... Abbiamo visto che con le preferenze in realtà i partiti mandano a svernare a Bruxelles personaggi come Mastella, Iva Zanicchi, quindi non è il problema delle preferenze. Però voglio dire, voi che avete uno spirito diverso, affermate di avere uno spirito diverso, evidentemente a Bruxelles volete mandare gente diversa. Come avviene la selezione di questa gente diversa? Probabilmente la selezione avverrà nello stesso modo in cui è venuto per le parlamentarie, quindi daremo dei criteri nei quali rientrano. Cioè parlamentari che hanno preso un voto alle comunali? Non è quello, non è il voto alle comunali. No, o che diciamo hanno preso 20 voti sul web. Roberto, i 20 voti sul web o un voto diciamo così alle comunali sono relativi, sono persone che in molti casi si sono semplicemente prestate ad aiutare il gruppo a formare una lista che in quei casi, parliamo di un bel po' di anni fa, faticava addirittura a comporre le liste. Mentre adesso addirittura dobbiamo… No, stiamo parlando delle elezioni di un anno fa, quando era evidente che in Puglia, dico la Puglia perché è la nostra regione, ci sarebbero stati 6-7 parlamentari, di almeno 6-7 parlamentari. Quelle liste sono state composte quando alle comunali, come tu giustamente dici, quelle persone prendevano un voto perché semplicemente si prestavano come persone appartenenti al gruppo a raggiungere il numero minimo per far partecipare alla lista civica alle comunali. Però indipendentemente da questo, dico al netto, io mi chiedo una cosa, anche il parlamentare nostro che è stato eletto sul portale da 20 voti, Benedetto Fucci, da quanti cittadini è stato votato ad Andria per entrare al sesto posto nel listino del Popolo delle Libertà in Puglia? Da quanti cittadini? Da quanti cittadini è stata votata la Finocchiaro per essere al primo posto del listino al Senato in Puglia? No, io credo che si debba spostare il discorso. Non voglio esprimere giudizi sul singolo parlamentare. No, facevo degli esempi, chiaramente. No, in questa occasione… Ho preso un esempio di Benedetto, proprio bravissima persona riconosciuta a livello trasversale. Può piacere, non piacere, Fucci i voti non li ha presi mai. No, gli ha presi sì. No, no, si è candidato sindaco, ma diciamo, se dovesse diventare prete potrà dire per una volta di aver preso i voti. Ma in realtà, Benedetto Fucci, Fucci non l'ha scritto mai nessuno sulla scritta. Come non ha scritto D'Ambrosio, chiaramente. Però in quel caso c'è stata una selezione della classe dirigente. Cioè, Fucci fa il parlamentare perché ha fatto il consigliere comunale, è stato candidato sindaco, è una brava persona, una persona stimabile. C'è stato un giudizio dovuto sulla militanza, su una lunga militanza. E poi, sul fatto che era stato già altre volte candidato, non fu eletto per una porcata, quella dei parlamentari in meno, pur di non fare entrare Fucci, rinunziarono a 11 parlamentari, credo, alla Camera. Quindi, diciamo, c'era stata una. Anche nel tuo caso, devo dire, ti sei candidato sindaco, hai fatto la lista, hai preso un certo numero di voti, non hai scattato il seggio, ma non avete fatto neanche una cattiva figura, sei impegnato sul territorio. Cioè, c'era una storia. Non è casuale che tu sia stato il più suffragato sul web. Non è un fatto casuale o perché ti sei messo d'accordo meglio con i parenti. C'era un vissuto e c'era stata una selezione, una mini selezione di classe dirigente. Quindi c'è una bella differenza tra quello che si è messo sul web e ha preso 20 voti e chi invece, tu hai fatto il caso di Fucci, ha, diciamo, una sua storia politica, quindi non ha preso neanche i 20 voti, ma non è una scelta fatta a sorteggio, a sorteggio quasi. Infatti, sulle europee, comunque, chi si proporrà dovrà prendere i voti. Ma è chiaro. Ah. Ma di fatti noi da quel punto di vista, ripeto, stiamo facendo una selezione alla base in base ai criteri. Queste persone, poi, logicamente, molto probabilmente saranno in sovranumero rispetto alla lista minima da poter inserire all'interno, diciamo così, delle persone che andranno poi a prendere le presenze, come giustamente tu dici. Quelle persone saranno ulteriormente selezionate dalla rete e solo, credo nella circoscrizione nostra siano 17, solo i primi 17 entreranno all'interno della lista del Movimento 5 Stelle, ma poi dovranno andarsi a guadagnare le preferenze sui territori. Quello è chiaro. Però, ripeto, alla base, quello che il Movimento 5 Stelle sta cercando di fare è che queste persone siano persone con tutti i margini di errore che vi possono essere, più inattaccabili possibili, cercando di evitare i due pugliesi che abbiamo, ad esempio, avuto, come tu giustamente dicevi un voto e poi si è andata via nel gruppo misto, perché? Perché qui eravamo 109 e sono andati via in 5, ok, si resiste tutto sommato ed è una percentuale accettabile, ma in Europa porteremo probabilmente tra i 20 e i 30 eurodeputati. I margini di errore devono essere minimi, dobbiamo portare in Europa delle persone che comunque devono essere al 100% affidabili nei confronti dei cittadini, perché, ripeto, il Movimento 5 Stelle si pone a garante tra l'eletto e i cittadini e se deve scegliere tra i cittadini e l'eletto, sceglierà sempre i cittadini, andrà via sempre l'eletto e non i cittadini. Le espulsioni sono appunto questo, le espulsioni sono un rispetto nei confronti dei cittadini. Quando una persona non inizia più a seguire il mandato che ha ricevuto dai cittadini, per noi è quello che bisogna rispettare, perché al contrario di quello che si dice, l'articolo 67 del vincolo di mandato, in realtà più che non rispettarlo noi che invece seguiamo quello che promettiamo i cittadini, in realtà quel vincolo di mandato ce l'hanno già gli altri partiti, perché soprattutto ad esempio con la nuova legge elettorale, quando una persona verrà eletta solo perché prima nel listino e verranno eletti soltanto i primi nel listino, quelle persone hanno già di fatto il vincolo di mandato, perché il capopartito metterà te al primo posto solo se fai quello che dico io, capopartito. Quindi alla fine la violazione dell'articolo 67 della Costituzione non c'è nel Movimento 5 Stelle, ma c'è negli altri partiti dove se tu non fai quello che il capopartito ti ha detto di fare perché ti ha messo al primo posto, tu verrai espulso. E quando si parla delle 4, 5, 10 espulsioni del Movimento 5 Stelle, bisognerebbe ricordarsi ad esempio delle 53 espulsioni fatte dal Partito Democratico nel 2013, di tutti i sindaci espulsi dal Partito Democratico nella zona dei Notav, sindaci del Partito Democratico e allora ripeto, capisco che faccia comodo parlare. Tu sei d'accordo su tutte le espulsioni che sono state fatte dal Movimento 5 Stelle o ce n'è qualcuna che ti ha lasciato perplesso? Allora io sono entrato in molte nostre riunioni congiunte che riguardavano le espulsioni del Movimento 5 Stelle non con una decisione preconfezionata, questo lo posso sicuramente dire, però quando ti trovi delle persone che addirittura rifiutano il confronto, faccio un esempio molto semplice di una delle espulsioni che è stata più mal digerite anche dai cittadini, la gamba era a suo tempo per questa intervista rilasciata, i cittadini molte volte non sanno quello che accade prima, i cittadini non sapevano che il gruppo, la congiunta di Camera e Senato aveva deciso per una settimana di non rilasciare, assieme avevamo deciso a maggioranza, interviste visto che il momento non era dei migliori per il gruppo, stava passando tutta una serie di dinamiche e quindi ok, in silenzio, decide questo gruppo, tre giorni dopo lei si presenta a fare un'intervista organizzata a Sky in cui dice determinate cose, ma non è quello il problema, il problema è che la deputata, anzi allora la senatrice si presenta in riunione congiunta, questi cittadini magari l'hanno visto addirittura in streaming, con un foglio a quattro, legge dieci righe in cui praticamente getta fango su tutto il gruppo e se ne va, e noi restiamo lì a discutere della senatrice per quattro ore e mezzo del resto del gruppo, quando manca il rispetto, quando manca la voglia di un confronto allora c'è qualcos'altro dietro, e questi quattro senatori ad esempio sono una dimostrazione di quello, in realtà a chi è mancata la libertà? Era noi e non i quattro senatori, perché ti dico chiaramente una cosa Roberto, per farti capire il clima qual era, nel momento in cui uno dei quattro senatori che faceva parte della commissione affari costituzionali al senato del Movimento 5 Stelle veniva a partecipare alle riunioni congiunte e io sapevo che qualsiasi cosa stessi dicendo in quel momento usciva cinque secondi dopo sulle agenzie di stampa, perché il senatore era lì che scriveva al telefono qualsiasi cosa noi ci dicevamo, io stavo perdendo la libertà di poter dire qualsiasi cosa, perché magari si fa strategia politica all'interno delle commissioni e se viene fuori la strategia politica che io sto dicendo, chiaramente noi siamo depotenziati, chiaramente io non riesco ad ottenere l'obiettivo che volevo raggiungere, quindi la libertà è mancata a noi, non a loro, che invece abbiamo sopportato per un anno, per un anno abbiamo tentato in ogni modo di tenere nel gruppo queste persone, giustamente alcuni cittadini attivisti dicono ma perché vi siete risolti solo adesso? perché uno cerca di tutelare il gruppo, perché uno cerca di mantenerlo più unito possibile, perché chiaramente lì noi siamo un gruppo contro tutti, contro tutti, sia chiaro, e allora qualsiasi numero è importante, però ad un certo punto se queste persone diventano un problema per il gruppo, una zavorra, e allora liberamente, tranquillamente, quella è la porta, che vadano pure, e di fatti si sono dimostrati per quello che sono, di fatti hanno fatto quelle finte dimissioni, che sappiamo tutti al Senato non verranno mai accolte, e formeranno invece un gruppo che già era in previsione di formare. Allora, fermiamoci, perché poi dobbiamo parlare del territorio dove le cose non sono allegrissime, è una riflessione la dobbiamo fare, tra un minuto di pubblicità. Bene, siamo tornati in studio per continuare la nostra intervista all'onorevole Giuseppe D'Ambrosio del Movimento 5 Stelle, con lui abbiamo fatto il punto un po' della sua attività in Parlamento, la sua attività di parlamentare, ma in questa seconda parte voglio riportare D'Ambrosio, l'onorevole D'Ambrosio sul territorio, del resto lui quattro anni fa è stato candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, una delle prime candidature del vostro movimento, lui un giorno mi contattò e mi disse, sai noi facciamo una lista del Movimento 5 Stelle. Non esisteva ancora il Movimento 5 Stelle. Eh, dico facciamo una lista, dice io faccio il candidato sindaco, io dici tra me e me, ma questo che va facendo? Invece sta facendo il parlamentare, ma al di là di questo. Parliamo prima del territorio e poi ci soffermiamo su Andrea. Sì. Allora, come sta crescendo, se sta crescendo il Movimento 5 Stelle su questo territorio, dove i risultati anche dopo, fermo restando che voi sarete sempre penalizzati alle amministrative, quindi voglio dire, rispetto al voto politico, quasi non c'è via di scampo se non in casi eccezionali come avvenne a Parma e in altre realtà, ma il voto amministrativo in genere vi penalizza. Però ci sono stati discritti i risultati, ma appunto discritti anche nel momento migliore, qualche 8%, 5%, 4%, comunque mai una percentuale a due cifre. Perché stenta il Movimento a crescere sul territorio e soprattutto là dove anche riesce a prendere un consigliere comunale come è accaduto a Barletta? Com'è che comincia a litigare il giorno dopo e volano gli stracci sui giornali, volano gli stracci sul web e si assiste a un tutto contro tutti che ha già fatto perdere qualunque tipo di credibilità al Movimento, cioè un Movimento che litiga perde di credibilità. Io sono d'accordo sul fatto che comunque il Movimento 5 Stelle in questo momento rispetto alle relazioni politiche o quelle che saranno le europee, dove vi è più probabilmente un'espressione di un voto d'opinione, fatichi a livello comunale. Però fatica per due motivi semplici. Uno perché conosciamo, soprattutto a livello locale, come si muovono determinati pacchetti di voti, però si fatica anche perché giustamente in alcuni casi i cittadini faticano a dare credibilità a noi stessi e questa è una critica che possiamo tranquillamente fare, cioè i nostri gruppi comunque stanno affrontando un percorso di crescita, un percorso di crescita che all'inizio ti può dare determinati risultati, ma poi questi risultati se tu diventi credibile nei confronti dei cittadini ti può dare anche espluare, come ad esempio accaduto a Pomezia, dove a Pomezia avevamo un solo consigliere di opposizione che per cinque anni ha fatto un lavoro impressionante e questo stesso consigliere si ricandida come candidato sindaco e vince le elezioni a Pomezia. Quindi quello è il percorso, il percorso del Movimento 5 Stelle è quello, ma voglio dire un qualcosa di più. In realtà l'obiettivo nostro, anche a livello comunale però, non è quello di vincere le elezioni. Il primo obiettivo è quello di portare al centro della discussione, come abbiamo fatto giustamente tu ricordavi, nel 2009, determinati argomenti, determinati argomenti come è accaduto qui da noi, della raccolta differenziata porta a porta obbligatoria, in cui quando la portavamo all'interno dei consigli comunali di una città come Andrea, di 105 mila abitanti, ci dicevano che non è possibile, è troppo grande la città, costa troppo, adesso la stiamo facendo. E abbiamo portato tanti altri argomenti anche che adesso man mano stanno entrando oramai nel vocabolario comune, richiedono anche i cittadini e gli amministratori. La vittoria del Movimento 5 Stelle è quello, la presenza del Movimento 5 Stelle porta all'interno del dibattito politico, all'interno della discussione politica e molte volte nella fase decisionale stessa, alcune linee di trasparenza come ad esempio da Andrea Abbiamo, abbiamo la giunta in streaming, abbiamo il consiglio comunale in streaming e quindi un consiglio comunale, una giunta che resta lì su web ed è possibile anche andare a vedere con tutto ciò che ne consegue anche nei mesi successivi. Certo il discorso è diverso nel momento in cui ci si pone come a Parma come forza che deve amministrare, perché lì ad esempio nel momento in cui deve amministrare il Movimento 5 Stelle e lì sono d'accordo nel momento in cui vi è la presenza di un gruppo che non riesce ad essere di rottura, deve essere estremamente di rottura, non deve dimostrare come tutti gli altri partiti queste faide interne, deve essere un monolite, un blocco contro tutto il resto del sistema. Io dico sempre una provocazione che in realtà però è una cosa vera da fare per qualsiasi candidato, sindaco, candidato portavoce del Movimento 5 Stelle, sarebbe quella di fare quello che ha fatto Pizzarotti, cioè dire io vinco le elezioni e domani prendo tutti gli atti del Comune e li porto immediatamente alla Procura della Repubblica per controllare che questi siano tranquillamente a posto, perché può accadere che come è successo a Parma il vice sindaco e tre assessori poi vanno in galera, perché c'erano dei problemi. Parma l'abbiamo preso con 800 milioni di euro di debito e adesso solo nel primo anno l'abbiamo ridotto di 200, ma Pizzarotti punta nel 2016 ad azzerare questo debito. Io vorrei a livello locale degli amministratori così, degli amministratori illuminati in qualche modo e questa è logicamente la selezione che il Movimento 5 Stelle sta cercando di fare anche a livello locale. Però se l'ho cacciato a Pizzarotti poi vieni a dire da capo queste cose. Ma io te le vengo a dire tranquillamente perché così come Pizzarotti ci sono degli amministratori illuminati anche nel PD, nel PDL e in qualsiasi altro partito, un bravo amministratore locale ci può essere in qualsiasi partito, semplicemente io vorrei che questi amministratori locali però, quando poi succede qualcosa come in qualsiasi partito non li va bene, come fa Pizzarotti? Lo dicano tranquillamente, si esprimono tranquillamente e non vengono espulsi da noi a meno che, non per il dissenso, ma violano le regole. Se uno viola le regole allora viene espulso, allora non solo viene espulso da Movimento ma viene sfiduciato dal territorio, dai cittadini. Questa è la differenza, non è un gruppo in qualche modo di eletti che decide l'espulsione di qualcuno, sono i cittadini perché anche le nostre espulsioni vengono ratificate dai cittadini sul web. Loro possono anche decidere il contrario, l'abbiamo dimostrato in diverse occasioni, Beppe diceva di essere contrario all'abolizione del reato di clandestinità, i cittadini hanno deciso il contrario e noi in Parlamento abbiamo votato il contrario, Beppe diceva no per il diritto agli ussoli, noi l'abbiamo depositato come proposta di legge, Beppe non era d'accordo per andare a fare le consultazioni con Renzi, la rete ha deciso il contrario e noi ci andiamo, noi facciamo quello che i cittadini ci dicono di fare e questa è l'inversione che dovrebbe funzionare anche a livello locale, dove a livello locale tu addirittura in maniera ancora più facile hai l'interfaccia diretta con i cittadini e quindi fai direttamente quello che i cittadini ti hanno detto di fare. Ma tu a livello locale ce l'hai il polso della situazione o hai delle defagate? Perché tu parti a Roma il lunedì, gli altri parlamentari partono il martedì, tu lo dai per vanto e torni il venerdì, siccome la coperta è corta farai un lavoro migliore, hai una maggiore disponibilità su Roma, tu dici da adesso questo è il mio mandato, però hai meno tempo per il territorio visto che poi diciamo una mezza famiglia, due amici, una pizza, non ci sono più. Ma uno sguardo al territorio comunque va dato. Allora sulla situazione di Barletta hai provato a capire, a risolvere, a mediare, a cacciare? Perché c'è anche questo, o devono stare questi due gruppi che si insultano a tutti i livelli e non fanno fare una bella figura né al loro consigliere comunale, né al Movimento di Barletta né a te. Ma nessuno caccia nessuno dal Movimento 5 Stelle, lì esiste un gruppo a Barletta e una persona può andare via da quel gruppo o rimanere all'interno del gruppo ma non esce fuori dal Movimento 5 Stelle, perché ripeto il Movimento 5 Stelle è un'iscrizione a un portale nazionale che non c'entra assolutamente nulla col Movimento 5 Stelle a Barletta. Per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle a Barletta e quello che mi compete, allora nel nostro codice di comportamento c'è semplicemente la tutela dei cittadini relativamente a quel simbolo che hanno votato. Quindi io tutelerò il portavoce del Movimento 5 Stelle, che prima è stato Patrizia Corvace, adesso è Claudia Catino e logicamente lo tutelerò come garante dei cittadini. A me i problemi interni, virgolette, non interessano, chiaramente dispiacciono, chiaramente sono un problema. Ma i problemi interni, siccome immagino che non siano su chi ti fa Juve, chi ti fa Inter, chi ti fa Milan, saranno o almeno dovrebbero essere sull'azione politica che si svolge, quella dovrebbe interessare. No Roberto, no, perché? Allora questo lo voglio dire chiaramente, tanto ci sono state delle dichiarazioni anche sui giornali in merito a questo. Quando un gruppo di 13 persone due giorni dopo le elezioni vado a trovarli per festeggiare per il grande risultato ottenuto comunque a Barletta, la prima cosa che mi chiedono senza ancora aver fatto un consiglio comunale è come si fa per richiedere le dimissioni del portavoce, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Quando addirittura dopo qualche altro giorno questo gruppo stesso fa un articolo sul giornale in cui ancora non c'è stata né una valutazione politica, né un consiglio comunale, né nulla e si chiede ancora di sfiduciare il portavoce, vuol dire che c'è qualcosa che non va. Vuol dire che chiaramente c'è qualcuno che è rimasto insoddisfatto da quelli che sono stati gli esiti elettorali che non gli hanno consentito di mostrarsi al mondo in qualche modo, in questo caso Barlettano. E allora invece io che guardo i cittadini, la realtà è, se tu veramente, indipendentemente dal fatto che sei stato eletto o no, vuoi lavorare per il gruppo, tu ti metti lì e sei a disposizione del gruppo e lavori più o meno d'accordo con il tuo portavoce. Io e te, se stiamo nello stesso gruppo, non necessariamente ci dobbiamo sposare o andare a prendere la stessa pizza. Se abbiamo un obiettivo comune che è quello del miglioramento della qualità della vita, a Barletta. Si fanno le cose per Barletta, si fanno le cose nello stesso gruppo. Se ci sono valutazioni, vale come a livello nazionale sulle determinate cose, si votano nel gruppo, via la maggioranza, l'opposizione, poi si fanno insieme. Ma se non si fa questo, invece si pensa semplicemente a voler fare l'intervista, a voler firmare un articolo, ad uscire all'intervista con la propria faccia, allora lì c'è ben altro. E quelle cose lì, a quel punto, io da portavoce del Movimento 5 Stelle, devo tutelare i cittadini che sono andati lì a votare il simbolo del Movimento 5 Stelle. Poi alla fine sono convinto di una cosa, il gruppo di Barletta, il nostro portavoce, stanno facendo un lavoro, decideranno i cittadini se quel lavoro è più o meno apprezzabile, perché lì avremo poi un punto di riferimento quando si andrà di nuovo ad elezioni. C'è stato un consenso dei cittadini, quel consenso aumenterà, vuol dire che i cittadini, l'azione del Movimento 5 Stelle è stata gradita. Se invece non lo sarà, sarà un risultato peggiore. Anche noi in quel senso siamo tranquillamente esposti al giudizio dei cittadini, purché sia un giudizio, ripeto, obiettivo e non su poltrono giochetti vari che a noi non piacciono. L'unico comune che rinnova il Consiglio Comunale e legge il sindaco sul territorio è colato. Il Movimento 5 Stelle sarà presente con una sua lista, quasi certamente, se non certamente, con Ungaro. Non ho detto. Ho detto quasi certamente. No, ci sono tre al momento candidati. Che fu il candidato sindaco dell'altra volta. Devo dire che l'altra volta sul colato mi aspettavo un risultato migliore rispetto a quello. Parlando con la gente, in molti pronosticavano un risultato migliore anche per il candidato sindaco, non soltanto per la novità rappresentata dal Movimento. Poi, voglio dire, il voto utile alla fine tende sempre a strangolare i partiti che sono considerati. Hai appena detto che ci sono tre pretendenti. Quando sciogliete questo nodo, visto che gli altri, insomma, grosso modo lo stanno facendo, e soprattutto con che criteri? Ma sia la data di scioglimento, diciamo così, di questa riserva, sia il criterio lo deciderà il gruppo di Corato. Loro stanno decidendo se fare una votazione interna o addirittura fare una sorta di primarie aperte ai cittadini per la scelta tra i tre che sono venuti comunque fuori dal gruppo. Non si sono autoproposti, ma è stata sempre una votazione del gruppo. Io ritengo però che il risultato, ad esempio, che abbiamo avuto alle scorse elezioni a Corato, il risultato che abbiamo avuto a Barletta, sono figli di una situazione. I cittadini, è vero, si aspettano tanto dal Movimento 5 Stelle, però devono essere anche attenti poi quando vanno a votare. E te lo faccio con un esempio pratico di un qualcosa che riguarda tutto il territorio, non solo della nostra provincia, ma pugliese, le zone franche urbane. Sono mesi che mi sto battendo per le zone franche urbane, in solitaria, totale a Roma, perché in tutte le zone evidenziate in Puglia vengono assegnati i fondi che sono previsti, ma non sono stati assegnati. Io invece vedo sul territorio, anche da parte di consiglieri regionali del territorio, conferenze stampa, articoli comunicati ovunque, quando i principali colpevoli del fatto che non siano ancora arrivati questi soldi in Puglia sono loro, perché il problema vi è in regione dove questi soldi... Anche quelli potenzialmente diventano, se non una lemosina quasi... Ma meglio che niente, visto che non abbiamo niente. Intanto diamo di quei soldi, ci spettano, sono comunque delle agevolazioni nei confronti magari di chi, giovane come me, vuole aprire una piccola attività defiscalizzandola, avendo qualche agevolazione. E invece questi soldi, ripeto, inutilità, direi anche addirittura in alcuni casi nullità che abbiamo in consiglio regionale, non vengono fatte. Perdiamo soldi, ma questo avviene continuamente, continuamente a livello regionale come a livello comunale, dove abbiamo degli amministratori incompetenti che perdono soldi, bandi europei, per poter dare delle cose ai cittadini. Qui l'amministrazione ad Andri ha perso due, due bandi europei, per dare delle piste ciclabili ai cittadini. Piste ciclabili? Due bandi europei di milioni di euro persi. Persi non si sa per cosa. Perché? Perché abbiamo degli amministratori che nel migliore dei casi sono incompetenti. E allora, visto che qui vengo alla tirata d'orecchi, alcune volte i cittadini pensano che l'amministratore, diciamo così, con una storia politica sia un voto utile rispetto a chi si presenta all'ultimo momento anche con, diciamo così, un'aurea di incompetenza attorno. Noi abbiamo dimostrato a Roma che quell'aurea di incompetenza in dieci mesi, l'abbiamo completamente cancellata. Io mi vergogno quasi a dire che un fisioterapista in commissione affari costituzionali è molto più competente rispetto a chi fa il politico da vent'anni in commissione affari costituzionali. Perché non studiano, perché non leggono, perché non fanno nulla, perché vengono semplicemente lì a schiacciare un tasto, perché il nostro ministro per le riforme costituzionali, Boschi, in un anno non aveva mai fatto un intervento in commissione affari costituzionali. Ed è diventato ministro. E allora benvengano i nostri del Movimento 5 Stelle incompetenti. Benvengano se questi incompetenti portano poi questa competenza. Torniamo al territorio, che lì svicola sempre a Roma. Abbiamo detto di Corato che quindi state decidendo di fare. Ci siamo, stiamo arrivando. Spostiamoci a Randria. C'è stato Consiglio Comunale qualche giorno fa, Consiglio Comunale che tutti attendevano come se dovesse accadere chissà che cosa, in realtà nulla è accaduto. Sono quattro anni che attendiamo che succeda qualcosa e non accade nulla. I toni bassi sono una forma di rispetto positivo, però il nulla sul del nulla del nulla andiamo un attimo in eccessi opposti. Allora, lei che idea si ha fatto? Lei l'ha seguito, immagino. Ma ad Andrea ci ho lasciato il cuore, perché adesso sono a Roma, mi sono trasferito a Roma, però il weekend ci torno. E ad Andrea ci tornerò, perché io tornerò ad Andrea, tornerò a lavorare ad Andrea, tornerò a fare il mio lavoro. E quando vedo un'amministrazione che aveva il proprio slogan, Andrea cambia, io da cittadino mi chiedo, in che cosa si è cambiata Andrea? Perché? Io credo che sia cambiata, ma è cambiata tornando ai fasti di qualche anno fa, di nuovo di vedere assessori arrestati. È tornata di nuovo ai fasti di qualche anno fa in cui vediamo amministrazioni completamente bloccate da lotte intestine che addirittura costringono a non fare consigli comunali. Andrea è bloccata dal fatto che ci ritroviamo ancora una volta nei vari giochetti politici, imbrigliati cittadini che ricevono tasse con una scadenza il giorno dopo, ma poi questa viene derogata nei giorni successivi, mentre questi vanno tutti quanti in un ufficio a fare delle code megagalattiche, addirittura a prendersi a botte con la polizia che arriva. Ma di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un'amministrazione che di fatto ha fallito il suo obiettivo. Il suo obiettivo era quella di prendere Andrea e rigirarla completamente. Semplicemente abbiamo un'amministrazione che ha qualche merito, sia chiaro, ha qualche merito di aver tagliato qualche nastro bloccato, qualche cantiere bloccato dalle scorse amministrazioni, ha il merito grande di aver avviato la raccolta differenziata porta a porta obbligatoria, ma mancano tutta una serie di cose attorno. La tariffa puntuale, c'è questa spada di Damocle di un bando sotto l'attenzione della magistratura con tutto quello che abbiamo visto e c'è il grande, il grande vulnus politico di un assessore che viene colpito in questo modo è di un'amministrazione che assolutamente politicamente fa finta di nulla, come se nulla fosse accaduto, con un Presidente del Consiglio che si dimette, con tutta una serie di mal di pancia all'interno e in tutto questo poi completa il quadro la bellissima opposizione, un'opposizione che al massimo, ben che vada, riesce a cavalcare l'onda del mal di pancia dei cittadini facendo qualche raccolta firme, nascondendosi dietro questa maggioranza perché è nulla, perché dall'altra parte è nulla, perché in quattro anni non ha fatto mai opposizione, tranne qualche sporadico caso, perché in quattro anni chi ha fatto opposizione si trovava al di fuori di quel Consiglio Comunale, queste sono le vere colpe, Andrea è la manifestazione totale di quello che avviene a Roma, del nulla politico e in questo senso devo ammettere, devo ammettere, ho rivalutato il nostro Sindaco, ho rivalutato perché rispetto alla media degli altri consiglieri comunali e assessori è comunque di un'altra stoffa, però mi aspettavo da questo Sindaco che visto quello che è successo doveva dimettersi, io mi aspettavo le sue dimissioni, la sua presa di distanza da quello che i suoi assessori, da quello che i suoi consiglieri hanno fatto e continuano a fare e invece no, pur di mantenere la poltrona è rimasto là, io mi aspettavo un gesto diverso da lui, mi aspettavo un gesto diverso dalla persona del nostro Sindaco, quindi ripeto, ad Andrea abbiamo un gigantesco problema, abbiamo un problema di quello che è Giuseppe D'Ambrosio che in qualche modo deve ogni volta rincorrere gli eventi cittadini e i nostri consiglieri comunali cosa ce ne abbiamo a fare, i nostri rappresentanti pagati da noi cosa ce ne abbiamo a fare? D'Ambrosio siamo quasi in conclusione della nostra intervista, un flash perché sempre agganciandoci alle cose che abbiamo detto, tra un anno comunque si vota, si vota l'Andrea, si vota le regionali, quindi i parlamentari della Puglia immagino avranno l'onere di costruire la lista per le regionali, le varie liste e di mettere in mutuo questo percorso e non so come sceglierete, deciderete selezionare anche in questo caso delle candidature per una consultazione importante dove certamente comunque vi vada il Movimento 5 Stelle andrà a scompaginare quelle che sono le carte che sono state date in questi anni e poi c'è la competizione di Andria dove quel bel risultato di 800 voti di 4 anni fa sarebbe un pessimo risultato se si ripetesse, nel senso che la situazione è cambiata, oggi c'è il parlamentare, quindi diciamo la lista credo anche in questo caso non so come la farete, credo non sul web ma attraverso un lavoro che la vedrà particolarmente. particolarmente coinvolto. Allora, avete cominciato a lavorare? Sulle regionali stiamo facendo diverse assemblee regionali, adesso ne faremo un'altra il 23 marzo. Ad esempio il candidato presidente, come pensate di scegliere sul web? Come facciamo in ogni partecipazione delle regionali, come ad esempio sta avvenendo adesso in Piemonte, ci saranno una serie di candidati... Non è che fate la stessa figura della Sardegna, no? No, allora in Sardegna non è una figura, in Sardegna il Movimento 5 Stelle è cresciuto subito dopo quella scelta, nei sondaggi, perché? Certo i sondaggi e i voti sono i voti. Il fatto di non partecipare è perché il Movimento 5 Stelle non riusciva a garantire necessariamente ai cittadini una lista di persone sulle quali si facesse garante. In Puglia accadrà la stessa cosa. Noi parlamentari in qualche modo aiuteremo i gruppi locali a seguire quel percorso delle regionarie per arrivare alla lista, ma se questa garanzia non ci sarà, noi stessi non ci faremo garanti di quella lista e quindi una lista in Puglia non ci sarà. Il nostro obiettivo è che ci sia perché dobbiamo esserci in regione, perché in regione vengono decise una marea di cose che riguardano i territori locali e che sono molto importanti, dalla sanità all'ambiente a tantissime altre cose, ai rifiuti. Però, però, il percorso per arrivare alle regionarie è figlio del percorso delle comunali, perché da lì parte la nostra selezione che porta lì. E allora vengo ad Andria, dove il prossimo anno ci saremo alle elezioni. Io vengo attaccato ultimamente, ad esempio, dalle opposizioni andriesi, quelle presenti in Consiglio Comunale, perché non sto facendo un'interrogazione parlamentare sulla questione dei rifiuti ad Andria e dell'assessore arrestato. E io mi chiedo e chiedo ai cittadini, ma quale significato avrebbe questa interrogazione? A che serve? C'è bisogno di un'interrogazione parlamentare per far capire la gravità della situazione ad Andria? Non c'è bisogno. Questa era la vecchia roba che facevano i vecchi politici quando facevano la marchetta a Roma per far vedere che hanno fatto qualcosa che significasse, virgolette, sempre qualcosa a livello locale. Io questa cosa qua non la voglio fare. Non la voglio fare per un semplice motivo. Perché la lista delle comunali ad Andria sarà una lista che non solo si propone per cancellare questa amministrazione Giorgino, no, si propone per cancellare anche tutti quei vecchi politicanti che sono parcheggiati nell'area del centro-sinistra e che hanno distrutto Andria anche negli ultimi vent'anni. Noi dobbiamo mandare a casa tutta questa gente, perché hanno dimostrato tutti insieme di essere la faccia della stessa medaglia. Perché ad Andria, come anche a Roma oramai, questi si rimpallano i ruoli, ma alla fine vediamo che addirittura nelle opposizioni, quando si trovano a fare le opposizioni, si trovano quasi anche addirittura in una posizione più comoda rispetto alla maggioranza, perché fanno gli interessi propri senza metterci la faccia. Quindi quella è la realtà vera. Allora, ad Andria daremo una lista delle comunali. Stiamo cominciando anche lì un determinato percorso, arriveremo a presentare un candidato sindaco, un candidato portavoce, che sarà di rottura rispetto al completo sistema. Possiamo escludere che sia lei? No, escludiamo che sia io, perché comunque nel Movimento 5 Stelle non esistono i doppi incarichi. Quindi mi dovrei, secondo il nostro codice, dimettere sei mesi prima da parlamentare per poter fare il candidato sindaco. Siccome sono stato, virgolette, votato dai cittadini in questo momento per fare il parlamentare... Farò il parlamentare. Quindi farò il parlamentare. Ero l'inciso. No, no. Una cosa volevo aggiungere. I votanti ad Andria nel 2010, nella primavera 2010, non sono stati 800, sono stati oltre 1.400 visionari che in quel momento, quando il Movimento 5 Stelle non esisteva, ci hanno dato fiducia. E noi, subito dopo, per ringraziarli, abbiamo fatto un manifesto che se andiamo a ripescare, in realtà, era profetico. Perché noi in quel manifesto abbiamo fatto una distinzione di tre classi politiche, di quelli che erano i consiglieri comunali, dei nuovi, dei semi rottamati e dei rottamati, quelli che erano stati ripescati. Alla fine ci avevamo preso, perché tutti quei consiglieri che avevamo evidenziato in quel cartellone messo per strada, come il non nuovo che avanzava ad Andria, hanno dimostrato che in questi quattro anni questo è il risultato dato ad Andria. Allora io chiedo questa volta ai cittadini andriesi, davvero, cosa avete ancora da perdere per dare fiducia ad un gruppo, ripeto, non solo di ragazzi, ma vedrete la nostra lista sarà oramai trasversale, che si propone realmente di cambiare Andria da ogni punto di vista. Se i cittadini andriesi non hanno nulla da perdere, benissimo, che votino secondo me in maniera conseguenziale il Movimento 5 Stelle. Se invece decidono ancora una volta di vendersi per la classica ricarica, la cena, la promessa, il posto di lavoro o altro, 80 euro in questo caso, ne riceveranno il risultato e non devono venire a lamentarsi. Roberto concludo dicendoti una cosa, quando c'è stato l'arresto del nostro assessore, sono stato chiamato per venire ad Andria per cercare di calmare le acque del casino che stava succedendo sotto il Comune relativamente a questo. Io non ci sono venuto per un motivo che i cittadini devono sapere. Io se fossi venuto lì al Comune non mi sarei arrabbiato per quegli amministratori che io critico dal primo giorno e che secondo me non rappresentano una novità. Io mi sarei arrabbiato per tutti quei cittadini che erano lì sotto a protestare, ma che hanno votato questa amministrazione pur sapendo chi erano i soggetti e chi li accompagnava. Quindi la colpa non è dell'amministratore, è dei cittadini quando votano questa gentaglia. Allora, con l'apertura della campagna elettorale comunale e regionale dell'On. D'Ambrosio possiamo chiudere questa trasmissione. Grazie a te per l'invito. Per essere intervenuto alla nostra trasmissione. Grazie ai telespettatori che ci hanno seguito con la consuita cortesia attenzione a risentirci.